ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture un saluto a tutti quanti grazie di essere sempre qua a tutti gli iscritti gli affezionati gli abbonati che sostengono il canale grazie mille veramente del vostro sostegno saluto anche le nuove persone che mi ascoltano per la prima volta vi rinnova tutti quanti l'invito di fare l'iscrizione a questo canale e di attivare la campanellina cliccando su tutte leggete anche la descrizione del video perché trovate anche i tempi delle letture che faremo qua oggi e andate anche su quinta dimensione letture punto it che è proprio il sito dove potete acquistare chi vuole fare i consulti con me i percorsi di crescita vedere insomma tutte le diciamo i servizi le consulenze che offro e poi c'è la parte anche di blog e di lettura molto interessante per la crescita sempre personale spirituale e aggiornamenti sui galattici sulla situazione planetaria è un sito molto completo quindi vi invito anche a fare un giro là chi vuole acquistare gli accessori che creo principalmente per me ma sono anche in vendita può andare sempre qui sotto nella descrizione del video che trova il link diretto per visionare tutto gli oracoli tappetini per il mouse le tovagliette come questa per esempio tovaglietta della fortuna chi vuole può fare anche come tavolino di divinazione per sé insomma quello che desidera allora oggi facciamo come facciamo ogni mese e mezzo circa facciamo la stesa sul lavoro sulla fortuna e poi metteremo alla fine dei numeretti gratuiti per voi da giocare chi vuole dei numeri più in modo assiduo può fare l'abbonamento al canale l'abbonamento di livello 1 dove riceve una previsione al mese o di livello 2 dove riceverà due previsioni al mese questi invece sono dei video che pubblico ogni tanto dove metto dei numeri proprio gratuiti per tutti quanti quelli all'ascolto del mio canale allora partiamo vediamo quindi un po come si svolge un po la fortuna il giro di denaro l'abbondanza in generale il lavoro insomma vediamo quello che può venire fuori facciamo due letture oggi che mi è arrivato un 2 per voi iniziamo puoi scegliere la coccinella rossa e la coccinella azzurra puoi sceglierne una e poi ascoltare eventualmente anche l'altra i numeri invece saranno per tutti uguali prepariamo intanto mettiamo delle energie su fortuna abbondanza lavoro rossa e azzurra vi metto anche un angelo dell'abbondanza proprio sul discorso denaro e abbondanza un consiglio che può arrivare qua per voi coccinella rossa coccinella azzurra mettiamo anche un angelo un consiglio un messaggio anche che deve arrivare coccinella rossa poi mettiamo uno dei miei oracoli questo appunto come dicevo prima è uno dei mazzi che ho creato chi vuol vederli va da sotto nella descrizione del video e può visionare tutti i mazzi questo è prossimo evento oracolo andiamo a vedere quindi che novità cos'è che accade cosa c'è per la coccinella rossa questi sono due e azzurra questo video ricordo che è valido sempre quando tu lo trovi è sempre valido non importa quando io lo metto va sempre bene quando lo trovi ascoltalo e si riferirà da quel momento in cui tu lo trovi a un massimo insomma di due tre mesi allora poi ovviamente approfondiamo con il tarocchio sibille insomma in base a quello che mi sento di fare all'istante nel qui e ora di quel momento che sarà quando ci sarà la lettura spero che hai scelto io comincio a spostare mettiamo qua partiamo quindi con la coccinella rossa chi ha scelto la rossa e poi mettiamo anche dei tarocchi cerchiamo di approfondire un po questo a fortuna questo lavoro speriamo che vi arrivi tantissimo il flusso proprio dell'abbondanza andate a vedere ci sono i codici sacri qua nella playlist le parole magiche abbiamo tante cose su questo canale proprio per andare a muovere le energie potete fare per esempio il codice 411 dell'arcangelo uriel il 520 520 proprio per il denaro immediato cioè ma ce ne sono tanti 4418 c'è anche il decreto per chi è particolarmente ostico il decreto dell'abbondanza per chi ha magari un karma pesante c'è anche quello nella playlist andate a a sbloccare energeticamente un pochino più a fondo col decreto dell'abbondanza insomma ce ne sono ce ne sono di cose partiamo lettura numero uno coccinella rossa vediamo intanto un'energia sul lavoro abbondanza qui abbiamo un po di pigrizia però abbiamo anche una responsabilità personale nell'attivarsi cosa voglio dire che magari dovresti anche tu non solo aspettare che qualcosa accada ma far sì che accada tu devi far sì che accada qualcosa quindi ti devi muovere qui abbiamo una persona con energie un po ferme e quindi stiamo un pochino sul basso cara anima quando non c'è tanto moto diciamo così attivazione energia movimento anche le energie stesse fisiche ma anche quelle energetiche insomma tendono un po a ristagnare a star ferme in tutti i sensi la parola va bene per tutto la pigrizia è riferito proprio a chi si deve muovere a chi è più passivo nelle cose quindi qui dovresti attivarti se vuoi che qualcosa poi accada ovviamente ricordo a tutti è un video collettivo se non ti senti in questa maniera ascolta magari l'altra lettura perché può succedere che un distinto perché il colore perché la cosa poi magari non è la lettura per sé magari è l'altra quindi eventualmente se non è per te scegli l'altra ovviamente puoi anche ascoltare questa tanto anche se non è per te comunque per qualcun altro ma forse qualche messaggio anche di qua ci può stare perché questa è libera scelta libero arbitrio qui parliamo di persone che devono riconoscere che è anche responsabilità loro tante delle cose che sono successe perché magari non c'è stata come dire un'energia da parte loro messa in moto proprio per far accadere le cose le cose vanno fatte anche accadere qui stiamo un po troppo fermi ad aspettare vedete come si sta qui questo qua no con le pantofole col suo bicchiere qua con tutto questo appoggiato insomma tutto comodo nell'aspettare cioè aspetto aspetto sto qua chi mi muovo tanto accade tanto accade ecco questo è un atteggiamento sbagliato questo c'è da diciamo cambiarlo vediamo l'angelo dell'abbondanza che cosa ci dice ancora ecco vedi questo è un atteggiamento infatti ci corrisponde alla perfezione al cento per cento perché è l'atteggiamento cioè è tarare la mente no proprio tarare impostare la mente proprio su l'abbondanza ti dice se pensi che l'abbondanza sia un qualcosa che può accadere nel futuro allora devi fare in modo che accadrà oppure l'allontanerai da te tu invece devi pensare all'abbondanza come qualcosa che tu già hai nel momento presente così ne farai esperienza eccolo qual è il problema è lo stare fermi o vedere le cose si sarà si sarà 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 accadrà sarà no eccolo cosa il futuro quando dico anime non si prevede il futuro è questo quello anche che significa il qui e ora è il nostro futuro perché qui creiamo mettiamo la base proprio della manifestazione come dicono i maestri ascesi manifestare nella terza dimensione questo a noi interessa perché qui dobbiamo cercare di sistemare la nostra vita in tutti i settori cominciare a stare bene davvero a vedere dei risultati qui ci vuole un assestamento sulla testa qui c'è qualcosa di sbagliato o che è stato inculcato o non lo so perché però c'è un atteggiamento fisso proprio così sbagliato dobbiamo abbattere questo muro fa il decreto per l'abbondanza non tanto il codice sacro perché il codice sacro è un evento che va ad accadere e poi si potrebbe anche fermare mentre il decreto è un decretare io decreto che e questo va piano piano a rompere tutti quei paletti quei muri che abbiamo costruito quei paletti proprio quelle cose ma io l'ho pensata sempre così perché adesso devo cambiare no sono 30 anni che penso questa cosa ecco è lì l'errore guardate che sincronicità di due carte penso che neanche cioè proprio non lo so è proprio perfetta questa accoppiata quindi pensa al denaro come una cosa che può accadere ora va bene ora io sono abbondante ora questo è importante andiamo avanti perché così però altrimenti gli eventi poi li vediamo sempre più tardi e segui l'intuito agisci in armonia con la tua intuizione anche se gli altri non sono d'accordo liberati dalle convinzioni limitanti guardate che roba convinzione limitante quello che abbiamo detto adesso e fai una nuova scelta coraggiosa resta flessibile perfezione il percorso strada facendo io sono sicura che qua all'ascolto ci sono quelli alcuni tanti pochi non lo so però che dicono che a me non mi funzionano i codici sicuramente perché qui si è capito qui c'è da fare qualcosa di cambiamento personale non diamo le colpe all'esterno se non funziona il codice non funziona il decreto o non funziona che ne so rituale o non funziona la genesa non mi funzionano le cose ecco non sono quelle cose che non funzionano è la persona che non funziona dall'inizio da tutto ci sta dicendo che c'è un atteggiamento sbagliato lettura numero uno se vuoi l'abbondanza devi seguire queste regole se no rimani ferma o fermo nel tuo no cerchietto che uno ha costruito attorno e lì rimane liberati dalle convinzioni limitanti fai una nuova scelta coraggiosa qui c'è da fare un passo avanti questo è quanto per il modo che riusciamo a far accadere le cose ovviamente non è per tutti all'ascolto è chiaro perché è un collettivo non è che mi sto riferendo a una persona in privato precisa che è lei questo è per tante persone quindi prendi diciamo quegli aspetti quelle cose che senti essere tue e soprattutto riconoscere la verità inutile scappare dire no no io no dobbiamo anche riconoscere quando sbagliamo perché questa è crescita se no avanti non ci andiamo e voglia recitare a pregare non ci muoviamo di un millimetro quindi intanto riconoscere un po' anche qual è la nostra limitazione cos'è che ci siamo magari siamo noi stessi che ci limitiamo autosabotiamo magari insomma no invece uno dice no è colpa quello è colpa quell'altro qui mi raccomando fai una nuova scelta coraggiosa in armonia con la tua intuizione perché tu ce l'hai quindi mi raccomando segui bene questo proprio è andato proprio in fila è tutto questo set di cose che ti è accaduto allora vediamo ancora qui c'è un incontro intimo forte energia e passione sessuale con qualcuno questi sono degli eventi che vanno proprio ad accadere a breve è una sorpresa in cui tutto può accadere allora questi sono gli eventi queste sono le dritte diciamo così che sono per te adesso andiamo un po ad approfondire tutto può accadere si può riferire ovviamente a qualche entrata di denaro qualche vincita oppure proprio un qualcosa che aspettate no però è chiaro è chiaro che se vogliamo proprio che l'abbondanza sia un flusso cioè non una cosa all'anno no ma una giorno un al mese una settimana cioè che vediamo che continua il flusso così dobbiamo diventare noi non una tantum e via vediamo un po qua per la coccinella rossa come va il lavoro come va la fortuna l'abbondanza vediamo cosa c'è anche in entrata in arrivo qui ci sono cose del passato ancora da cui anche non ci stacchiamo sembrerebbe qualcosa che ci tiene fermo dal passato io sento molto passato nella lettura numero uno magari c'è qualcosa sull'amore anche vediamo un po ecco qui c'è un blocco effettivamente allora qui grandi novità ve lo dico non ci sono non ci sono ovviamente ripeto non è per tutti non è per tutti non è per tutti però c'è un'energia che sin dall'inizio ci sta dicendo blocco ricerca personale ricerca spirituale lavoro su di sé responsabilità della persona anche per il motivo per cui le cose magari non stanno fluendo come devono quindi qui dobbiamo sbloccare momentaneamente non si vede non si vede uno sblocco forte vediamo un po ancora magari siete anche condizionati secondo me siete condizionati anche da persone o familiari compagni relazioni personali secondo me siete anche un po non liberi diciamo di fare magari sentite no questa spinta questo impulso però è come se qualcosa attorno vi tenesse no non vi sentite liberi di poter mettere in atto magari le cose è ovviamente non tutti qualcuno qualcuno muove comunque qualche notizia la vedo arrivare soprattutto qua vediamo sul denaro probabilmente contatti denaro che potrebbe anche arrivare ma secondo me per pochi qui è la maggioranza non credo allora qualcosa sulla casa anche ci potrebbe stare qualcosa sulla casa sull'abbondanza delle entrate qualcuno ce l'ha però ovviamente è la minima parte a quello che vedo qua delle entrate ci stanno però siamo anche molto stanchi ci dobbiamo spesso anche arrabbiare per ottenere le cose quindi non vedo nei prossimi diciamo più o meno un paio di mesi chissà quanto oro ci scende dal cielo sinceramente così potrebbero essere delle cosette magari un pochino più piccole perché non dico no cioè non dico no assoluto e poi l'assoluto non c'è specialmente nelle 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 carte in questi tipi di divinazioni no quindi sempre libero arbitrio impegnatevi perché qua c'è anche una responsabilità di non impegno che si vede qualcosa arriva però non è proprio la diciamo quella cosa quella boom quella bellissima cosa che potrebbe accadere magari vi accadrà più tardi se seguite il diciamo il discorso come da questo canale questo canale cosa fa non è che si limita a dirvi si arrivano i soldi non non arrivano i soldi si firmi il contratto quello è per cose da basso livello qui cosa cerchiamo di fare qui cerchiamo di capire dove sta l'inghippo e cercare di sbloccare perché quando andiamo a sbloccare cambiamo quei magari problemini che abbiamo quel mindset come c'è scritto qui cioè quella testa tarata su quella cosa e quindi non va mai avanti quella cosa nella vita va bene è importante sbloccare qui vi seguo vi aiuto passo passo a cercare dove è proprio il problema profondo in modo che possiate risolvere una volta per tutte ovviamente nessuno ve lo risolve per voi dobbiamo avere un impegno personale quindi niente grandissima cosa se non per pochi qua se non per pochi ti aspetto più tardi cara anima con i numeri proviamo a diciamo a sbloccare a cercare qualcosa anche a livello di abbondanza di vincita grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io proseguo lettura 2 che ha scelto la coccinella azzurra vediamo intanto queste e poi ci mettiamo giù altre carte partiamo intanto allora ricordo a tutti a un video che è sempre valido quando lo trovi va bene non c'è nessun tipo di problema ti ricordo per l'abbondanza per muovere puoi fare il decreto per l'abbondanza i codici sacri tipo il 411 411 di Uriel il 520 ci sono nella playlist codici sacri decreti parole magiche quella playlist lì di questo canale puoi cercare di muovere le energie mi raccomando vediamo appunto l'energia la coccinella numero due azzurra su abbondanza lavoro denaro eccetera qui stiamo maturando secondo me qui stiamo lavorando abbiamo lavorato abbiamo aspettato il ciclo siamo stati pazienti siamo stati bravi diciamo così siamo stati in attesa che qualcosa si muove quindi qui fa ben sperare che qualcuno sia arrivato alla fine di questo ciclo di pazienza diciamo così e fra poco raccoglierà i frutti o li sta già raccogliendo quando trova questo video o quando trovate questo video sta per accadere più o meno diciamo l'energia qui cosa si guarda sempre il qui e ora riflettono questi tipi di letture sempre il qui e ora e un andamento diciamo così per un po di tempo non certo fra un anno da quando trovi questo video a un po di tempo che io ho determinato in base ai vostri riscontri in due mesi circa più o meno da quando arriva l'informazione massimo proprio tre mesi andiamo avanti quindi vediamo l'energia va molto bene se è stato anche qui abbiamo coltivato secondo me abbiamo seminato e siamo stati bravi anche a sapere aspettare vediamo l'angelo dell'abbondanza risparmio allora qui dice che ti conviene risparmiare per il tuo futuro perché così il tuo futuro sarà salvo fai un favore dice proprio a te stesso o a te stessa insomma questo è allora risparmiare praticamente dice che è una parte del prendersi cura di se stessi in modo di di avere proprio un proposito nella vita di questo tipo cioè qui forse c'è qualcuno che magari non è stato tanto bravo su questo o comunque è proprio un consiglio se già lo stai facendo ti sta dicendo che stai facendo bene chi non lo sta facendo è un accurato consiglio che da comincia a risparmiare no i risparmi proprio così il tuo futuro dice sarà salvo fai un favore a te stesso cioè ti devi volere bene non spendere magari tutto quanto quello che ti entra oppure anche se tu non spendi tutto quello che ti entra però magari lo spendi male no nel senso magari compri anche cose futili che effettivamente non servivano cioè dice fatti un regalo pensa anche al tuo domani e inizia a pensare questa cosa prenditi cura di te stessa o te stesso e del tuo cammino così dice anche potresti programmare diciamo anche un qualcosa che puoi fare fra che ne so tre anni cioè cominciare a risparmiare anche per qualcosa magari dici voglio fare quella cosa da tanto la farò adesso comincio a risparmiare per fare quella cosa anche questo parla anche di progetto in un certo senso va bene quindi mi raccomando che già lo stai facendo oppure non se non lo stai facendo è una cosa che andrebbe fatta l'angelo dell'abbondanza ce lo dice vediamo ancora un altro consiglio lettura numero due stai nel flusso accogli gli ostacoli con flessibilità e lascia fluire l'energia nota dove senti delle resistenze e sciogli i blocchi con il respiro consapevole benedici i tuoi chakra e fai i respiri profondi all'aria aperta guardate quante ce ne sono qua di cose punto 1 punto 2 punto 3 stai nel flusso vuol dire non perdere il momento ecco perché penso che molti stanno facendo bene qua lasciar fluire l'energia dove senti delle resistenze c'è da sciogliere i blocchi allora cosa è il respiro consapevole mettersi fermi proprio a respirare e non in modo passivo cioè proprio mettersi lì quei 5 10 minuti e dire adesso faccio questa respirazione cominci inspiri gonfiando la pancia se vuoi puoi anche trattenere qualche secondo e poi espiri svuotando la pancia cioè quando tu espiri butti fuori la pancia rientra non facciamo il contrario che è sbagliato se vuoi puoi anche non fare l'apnea in mezzo tra l'inspirazione e l'espirazione vedi tu se riesci puoi fare anche apnea facendo questo sciogli proprio i blocchi dice qua e mi raccomando respiri profondi questa cosa la puoi fare anche all'aria aperta dice qua e mentre fai questo cerca di fare anche dei respiri questi respiri diciamo visualizzando anche tutti i tuoi centri energetici per lo meno quelli più diciamo maggiori diciamo così ce ne abbiamo tantissimi di chakra ma qui dice soprattutto i tuoi chakra proprio quelli no diciamo dal primo al settimo cerca di visualizzarli stai in questo flusso fai delle respirazioni qua qualcuno deve sistemare un po il tipo di respirazione consapevole che fa perché lo dice perché ne va anche della salute ne va della calma il cuore più batte lentamente più è meglio su tutto siamo anche meglio c'è più ossigeno siamo più calmi so che non è facile perché a volte purtroppo il problema dov'è nella respirazione che non lo capiamo siccome respirare è un gesto automatico in un certo senso non lo vediamo finché non siamo costretti a fermarci a pensare come sto respirando allora in quel momento ti accorgi altrimenti fai talmente tante altre cose e poi non ti accorgi quindi è tosto il discorso del respiro bisogna proprio stare lì a pensare a come stai respirando fino a che non diventa normale questo parlo solamente dell'inizio ovviamente poi quando uno si abitua non è che devi stare sempre lì chiaro questo è un esercizio che ti è arrivato vediamo anche degli eventi ovviamente ne beneficia tutto qui è magari ci sono cose che ti hanno portato un po ad essere nervosa o nervoso quindi il respiro accelera magari la mancanza di soldi o il lavoro che non si sa un po di problemi no quindi vediamo ancora chiusure benefiche positive qualsiasi ambito rinnovamenti importanti e qualcosa che ritornerà a te se hai perso prestato qualcosa ritornerà indietro quindi qui abbiamo qualcosa che si va a concludere bene potrebbe essere un lavoro un ciclo di qualcosa o qualcosa sul personale anche se qui però stiamo parlando di energie di abbondanza quindi sull'amore insomma di meno però può essere tutto nella vita di una persona quello che tu chiuderai ti sta dicendo qui sarà una cosa benefica una cosa buona è ora che tu chiuda proprio perché la tua energia migliorerà qui avevamo ricordo a tutti una energia proprio di pazienza l'energia di aspettare che il ciclo faccia il suo giro un po come la fase lunare vedete ci sono anche la luna qui ci sono le fasi no quindi queste chiusure sono solo che buone carani ma non ti preoccupare qualcosa che torna indietro è qualcosa che puoi aver prestato o addirittura che ti sei persa o perso lo ritroverai e qualcosa se te lo sei perso qualcosa che invece hai prestato qualcuno e non sei visto più tornerà anche indietro va bene queste cose importante quindi vedo qua un po da questo video di oggi che tantissime proprio novità grandissime sul lavoro cambiamenti forti eccetera non ci sono qualche entrata c'è ho visto anche prima però insomma adesso poi proviamo a fine video con i numeri vediamo adesso un po l'abbondanza il lavoro come va qua lettura numero 2 su fortuna e lavoro coccinella azzurra qui abbiamo anche famiglie vedo stabile allora queste chiusure benefiche positive spero proprio che si rivolgano e si riferiscano a queste carte che sono uscite 5 di spade e 7 di spade che sono comunque carte di conflitto carte di stare attenti a chi ci sta diciamo a chi ci sta dietro guardatevi le spalle se qualcuno vi deruba ma derubare nel senso proprio di tutto quindi anche della fiducia io qui vedo qualcuno che non c'è da fidarsi tanto in giro vicino a voi qualcuno che già sapete perché qua ci sono già conflitti in atto con qualcuno probabilmente uomo che sia nell'ambiente di lavoro che sia dentro casa comunque qui l'energia è quella e vedo che questa cosa va avanti da tanto però siamo eccolo qui nel circolo nel giro nel ciclo che andiamo a chiudere carta di ciclo e carta di ciclo quindi qui siamo carani ma secondo me in un momento proprio che è ora che tu cambi proprio le cose e queste chiusure benefiche positive ce lo confermano che tu lo farai io sono sicuro che qua non c'è novità in quello che dico per tantissimo ovviamente un collettivo per tutti è però secondo me tanti non sono sorpresi di quello che dico allora anche qua comunque grandi entrate cambiamenti non se ne vedono più di tanto è qualcosina forse ma notizie notizie le vedo vicino a questo bel set di denari quindi qualcosina secondo me andiamo ad acchiappare qua qualche soldino notizie vedo che ci sono qualcuno aspetta anche qualche notizia legale probabilmente o non so adesso come come perché insomma all'ascolto ci sono tanti magari qualcuno può aver che ne so fatto qualche ricorso a qualche datore di lavoro o sta aspettando delle lettere poi vedo cose anche legali cose anche di giustizia per quanto riguarda i soldi magari vanno rubato vanno vanno tolto qualcosa ingiustamente intendo eh quindi c'è anche qualcosa di questo tipo magari qualcosa che ritornerà a te che sia proprio qualcosa visto che c'è la carta insomma del lato del faragutto che sia proprio qualcosa che ti è stato no sottratto e che poi torna indietro io delle offerte comunque le vedo qualcosa di lavoro la vedo e ci sono anche delle scelte da fare delle scelte da fare fra diverse opzioni va bene però vedetevi sempre chiaro qua perché con la luna abbiamo sempre qualcosa da guardate quante volte già nella luna qua la luna qua dovete fare chiarezza mi raccomando leggere bene ascoltare bene fate le domande chiedete non vi vergognate a chiedere chiedete se una cosa non è chiara se non vi sta non vi squadra chiedete va bene chiedete qualche novità arriva comunque non vedo cose sensazionali nel collettivo in generale ancora come diciamo proprio quello sblocco grandissimo e poi ovviamente qualcuno sicuramente lo fa perché c'è qualcuno che lavora così tanto a livello personale che alla fine sblocca e magari qua non si vede ma è chiaro perché questo è un video interattivo è un video collettivo allora cara anima della lettura numero 2 se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io proseguo con i numeri eccoci qua approfitto appunto per ricordare il mio mazzo questo qua che sono gli oracoli della fortuna grazie anche a tutti quelli che l'hanno acquistato questa è la tovaglietta come vi ho detto prima nella descrizione del video c'è il link per acquistare la tovaglietta per voi e il mazzo eccolo qua dei numeri proprio della fortuna che uso anche quelli che fanno l'abbonamento ricordo chi vuole i numeri in modo più frequente può fare l'abbonamento al canale questo mazzo grazie a chi l'ha acquistato ripeto ancora arriva con tanto di istruzioni potete usarlo sia per i numeri per il gioco ma anche per numerologia personale il numero del giorno eccetera arriva anche corredato proprio di tutto è divisione già delle ruote divisione di numeri chi gioca l'estratto divisione dell'estratto eccetera vedete potete fare tutti i mazzetti le istruzioni ci sono già però ve le ripeto tutti i mazzetti da una parte la posizione per chi ama gli estratti e poi ci sono tutta la serie di 90 numeri eccoli qua come numerologia del giorno o per fare anche proprio le vostre combinazioni lunghissime anche ne potete prendere pure 30 cioè allora recitiamo insieme un rota un fortuna e converto promeo e vi darò due numeri e una ruota per questo video va bene poi ovviamente fatemi sapere sotto questo video per favore non in giro quello che è insomma le vostre impressioni sia su tutto quello che abbiamo visto prima anche della fortuna del lavoro eccetera anche delle vincite venite a commentare sotto questo video va bene allora ovviamente questi numeri li possono giocare anche gli abbonati e questi sono gratuiti per tutti facciamo tre volte rota un fortuna converto promeo partiamo rota un fortuna e converto promeo 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 voglio fare anche la ruota così capovolgiamo tutto insieme poi è una ruota fortunata per questi numeri una ruota fortunata per questi due numeri chi gioca all'estratto poi vi spiego come giocare chi gioca all'estratto c'è un numero solo qual è la posizione per questi numeri eccoci qua andiamo in fila due numeri ruota ed posizione andiamo primo numero è 82 secondo numero mamma mia c'era una ruota allora scusate prendiamo la ruota scusate mi è andata sotto una ruota guardate che l'ho pure pescata incredibile un altro numero insieme all'82 incredibile quello che è successo lo prendiamo subito per buono perfetto all'82 cosa abbiniamo vediamo un po' oggi è successo proprio qui qualcosa vinciamo eh 90 ok la ruota che era uscita allora ricordo 82 e 90 incredibile incredibile quello che era sbucato qua sotto era subari soprattutto in merito a questo numero però poi vi spiego l'altra ruota che avevo estratto è napoli ok vediamo subito poi vi spiego la posizione 2 ecco qua un altro 2 allora cosa significa significa che si gioca 82 su bari su napoli estratto normale oppure estratto in posizione 2 ma non solo oppure potete fare estratto normale e estratto in posizione nella stessa schedina eh perché se fate solo posizione poi l'estratto non lo prendete dovete fare estratto normale sempre e poi aggiungere se vi va la posizione 2 quindi 82 bari napoli oppure il 90 su 90 su bari su napoli estratto normale e estratto in posizione 2 e o fate voi chiaro questo per chi gioca il numero singolo chi vuole abbinare proprio lambo fa 82 90 bari napoli e ovviamente tutte le ruote mi raccomando vi ricordo l'inghippo che c'era uscito 82 bari vedete un po' voi per me un segno vediamo un po' 82 soprattutto magari chi vuole mettere quell'euro di più a questo punto magari dice non ne voglio giocare tanti punti di più di qua magari ma non mi prendo responsabilità ovviamente qui può uscire non può uscire non è che dipende da me quindi se proprio uno vuole puntare quei 50 centesimi di più o un euro di più può farlo qua visto avete visto come è successo cioè quante possibilità avevo di pescare quella ruota qua in mezzo incredibile no eh quindi dovevamo giocare due ruote allora a sto punto perché io vi avevo detto due numeri e una ruota invece sono uscite due ruote è voluta uscire proprio no allora ricordo perché anche con gli abbonamenti in privato succede molto spesso c'è gente che ha fatto terno aggiungendo i numeri che ho dato io nell'abbonamento ai numeri della sua famiglia della sua data di nascita quello di mio figlio allora ci metto il giorno di là ci ha messo il mese di qua non si sa allora qualcosa di significativo che vi ricordano questi numeri magari 82 può essere l'anno di un figlio l'anni gli anni che ne so che ha mia madre no per dire anche il 90 eh stessa cosa allora magari ci mettete vicino il giorno il mese chiedete agli angeli davvi l'intuizione di giocare dei numeri io da sole li giocherei sempre comunque cioè sia l'estratto 82 da solo che il 90 da solo l'82 90 così e poi farei anche se fosse insomma compatibile qualche altro numero con la mia vita con qualche storia mia qualcosa ci metterei anche qualcos'altro sul terno chi vuole anche quaterna e cinquina a questo punto no fate anche voi perché hanno vinto negli abbonamenti hanno fatto così hanno vinto cifre grandi va bene quindi vale anche per voi non è che vale solo per l'abbonamento vale anche per voi 82 90 se vi ricorda qualcosa mettete qualche altro numero però anche l'ambo singolo giocatelo o anche l'estratto solo e soprattutto vi ricordo sempre la ruota di tutte perché molti ambi sono usciti anche lì ultimamente anche la posizione abbiamo preso nell'abbonamento ovviamente la posizione non si può prendere sempre però molto spesso sì quindi anche l'estratto giocatelo anche da solo l'estratto non solo in seconda posizione perché è uscita la posizione va bene anche estratto singolo nella stessa schedina va bene estratto singolo estratto posizione e via va bene poi fatemi sapere mi raccomando sotto questo video chi vuole riascoltare come si gioca rimetta indietro e ascolti va bene come si gioca questo è quanto grazie mille a tutti anime vi ricordo leggete sotto mi raccomando la descrizione del video perché là sotto abbiamo tutto anzi metto qua sopra qua abbiamo tutto quello che volete chi vuol parlare con me fare i percorsi vada sul sito web quintadimensioneletture.it perché trovate tutto là sopra chi vuol leggere anche vi ricordo coffee.com se volete una domandina gratuita diciamo semi gratuita è a fronte di una piccolissima veramente donazione vi faccio la domandina veloce mi fate vi faccio la rispostina oppure c'è anche guisio per esempio per i video consulti un pochino più corti rispetto a quelli che faccio io nel mio sito date un'occhiata con calma quando avete tempo e nel frattempo vi ringrazio sempre di essere stati con me fatemi sapere le vincite commentate qui sotto e vi aspetto presto su quintadimensioneletture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie